Essendo l'intelligenza una prerogativa prevalentemente umana, una città è intelligente quando lo sono i suoi cittadini. E parlando di mobilità, i suoi cittadini sono intelligenti se usano tecnologie intelligenti per muoversi. Innanzitutto il proprio corpo, fatto per muoversi e non per stare fermi. Ma a disposizione c'è una macchina in grado di moltiplicarne l'efficienza. Come dice Ivan Illich, munito di questo strumento l'uomo supera in efficienza non solo qualunque macchina ma anche tutti gli altri animali. E' per questo che una città è intelligente se rende disponibile a tutti l'uso di questa macchina. Del resto la più coerente con i principi enunciati nell'articolo 1 del codice della strada. Le proposte di FIAB che vado a elencare non basterebbero certamente a rendere Alessandria una città ciclabile, ma risalgono a due anni fa ed erano legate alla possibilità di utilizzare al meglio un finanziamento statale di 300.000 euro da destinare allo sviluppo della ciclabilità. A seguito di quel finanziamento e sulla base del confronto avuto con l'amministrazione comunale abbiamo avviato una consultazione tra le associazioni interessate chiedendo il contributo anche di tutti i cittadini che utilizzano normalmente la bicicletta e che conoscono bene quindi le problematiche della ciclabilità alessandrina. Abbiamo ricevuto 135 segnalazioni e anche sulla base di quelle abbiamo cercato una sintesi e dettagliato le nostre proposte suddividendole in tre campi di intervento. Innanzitutto la ricucitura dei tratti ciclabili già esistenti ma discontinui, poi la manutenzione straordinaria, cioè il ripristino di ciclabili già esistenti ma pressoché inutilizzabili, e infine la realizzazione di nuove infrastrutture leggere rese possibili dalle recenti modifiche del codice della strada. Innanzitutto le corsie ciclabili e il doppio senso ciclabile per i quali abbiamo proposto delle applicazioni sperimentali che avrebbero poi potuto essere estese ad altre strade e ad altre parti della città. A questi tre campi ne abbiamo aggiunti due, uno relativo a piccoli interventi puntuali e risolutivi di situazioni problematiche e un altro relativo ai cantieri urbani già avviati con altri finanziamenti. In estrema sintesi consideravamo, e in parte consideriamo ancora, prioritari e inderogabili questi interventi che ora andrò a dettagliare. Per quanto riguarda il primo punto, cioè la ricucitura di tratti già esistenti, a partire anche da quanto già evidenziato in tutti gli ultimi piani del traffico commissionati dal Comune, abbiamo individuato tre aree di intervento, un'area a est, un'area della stazione e un'area borsalino. Nell'area a est, ma non solo, il problema principale si presenta agli incroci e quindi ne abbiamo proposto la risoluzione dando continuità e semplificando i tracciati in tutte le intersezioni degli spalti. In azzurro i percorsi esistenti, che ricordo per la maggioranza non sono piste ciclabili, ma ciclopedonali e quindi senza obbligo di essere percorsi. In rosso le nostre proposte di integrazione o di modifica, in sostanza di semplificazione dei percorsi. Il problema dell'attraversamento longitudinale della rotonda è stato affrontato e risolto in molte città. Qui l'esempio di Foggia. Ma gli stessi problemi di mancanza di continuità e di percorsi contorti o labirintici li troviamo in tutta l'area. La rotonda di Spalto Gamondio, l'attraversamento al semaforo di Via Marengo e i tratti discontinui lungo il viale. Le soluzioni contorte e difficile da seguire anche volendolo all'incrocio tra Spalto Marengo e Viale Massobrio. La soluzione più semplice ed economica per risolvere tutte queste problematiche sarebbe quella di rinunciare a intervenire subito sulla pista ciclopedonale al centro del viale e realizzare due nuove corsie ciclabili monodirezionali con case avanzate per le biciclette ai semafori. Una soluzione che sarebbe auspicabile per tutta l'anulare degli spalti. In questo modo si avrebbe un percorso più protetto al centro del viale per gli utenti più lenti, bambini, anziani e uno sulla strada per quelli più veloci. Per quanto riguarda l'area della stazione manca completamente un tratto ciclabile che colleghi i percorsi che arrivano alla rotonda della stazione con quelli che arrivano alla rotonda del liceo scientifico. Per quanto riguarda l'area Borsalino proponevamo e proponiamo un intervento che semplifichi l'attraversamento all'incrocio tra la direttrice dello spalto e quella di via Cavour concorso 20 settembre che ora prevede fino a tre attese ai semafori. A proposito poi degli interventi di manutenzione straordinaria si proponeva da un lato il rifacimento generale della segnaletica orizzontale spesso quasi invisibile e dall'altro il ripristino di alcune delle situazioni più degradate e pericolose. Spalto Borgoglio via Giordano Bruno il sottopasso di via Maggioli tutte le intersezioni sugli spalti dove i bordi in pietra costituiscono continui ostacoli da affrontare e non si capisce perché debbano essere perpendicolari e non paralleli alle ciclabili. Via Mocagata dove appare evidente quali siano le parti della strada e quindi i relativi utenti considerati prioritari. Al terzo punto le nuove infrastrutture leggere. Quello che proponevamo due anni fa era solo una prima applicazione delle nuove norme una sorta di sperimentazione da estendere a molte altre situazioni. avevamo dato la priorità al collegamento tra Piazza Garibaldi e lo spalto Gamondio. L'amministrazione ha poi deciso di procedere diversamente. La ciclabile prevista e finanziata in Piazza Garibaldi non è stata realizzata. Il tratto di ciclabile già presente in corso Centocannoni è stato ulteriormente accorciato con la realizzazione di una breve pista ciclabile a doppio senso di marcia in sede propria. Una tipologia adatta a strade extraurbane ma in quel contesto del tutto inadatta. Soccorso alla marmora non si è intervenuti. Abbiamo poi proposto anche in accordo con comitati e associazioni di quartiere due collegamenti leggeri con i soborghi a sud per proporre quelle che allora erano per lo meno in Italia soluzioni innovative in un'area completamente sguarnita di percorsi ciclabili e che avrebbe potuto diventare una sorta di laboratorio per sperimentare queste novità. Ma anche in questo caso l'amministrazione ha deciso diversamente scegliendo di realizzare un unico grande intervento. Integrando il finanziamento statale di 300.000 euro con uno corposo regionale di circa 700.000 il progetto è di realizzare una pista ciclopedonale tra il quartiere Cristo e Cabanette. Infrastruttura importante ma che risolve in minima parte i problemi del quartiere risucchiando quasi completamente le risorse a disposizione. A nostro avviso e non solo nostro per avere tanti ciclisti sulle strade è meglio realizzare tanti chilometri garantendo una sufficiente sicurezza agli utenti piuttosto che farne pochi per darne una massima. Per quanto riguarda i doppi sensi ciclabili in strade a senso unico le nostre sono state proposte minimali anche qui sperimentazioni che avrebbero semplicemente istituzionalizzato pratiche che nei fatti sono già comuni oppure avrebbero dato un senso a progetti che come sono stati realizzati proprio ne hanno poco. è il caso della ciclabile di via della Palazzina a sinistra sulla carreggiata e con la stessa direzione di marcia degli autoveicoli oltretutto in una strada a basso traffico un'infrastruttura che acquisterebbe senso nel contesto delle nostre proposte se fosse appunto in direzione opposta al senso unico per gli altri veicoli. Infine proponevamo tre piccoli interventi destinati a risolvere situazioni rimaste sospese la pista ciclabile del cavalcavia senza nessuno sbocco nel quartiere la mancanza di continuità tra chi arriva in bici da via Medaglie d'oro e vorrebbe proseguire nel sottopasso il completamento della ciclabile tra Corso Romita che peraltro nel frattempo è stata cancellata con la riasfaltatura e non più segnalata e il centro commerciale Panorama per quanto riguarda i cinque interventi allora nel 2020 già decisi progettati e iniziati il discorso sarebbe piuttosto lungo a partire dalla scelta degli interventi stessi scelta a volte discutibile su cui non siamo stati minimamente consultati comunque uno di questi interventi quello per noi più utile cioè la pista ciclabile attorno a Piazza Garibaldi è stato progettato ma poi accantonato gli altri quattro sono stati portati a termine con scelte progettuali a volte discutibile che non hanno risolto i problemi e con realizzazioni a volte molto criticate dai cittadini il fascicolo con le nostre proposte è stato fatto per venire all'amministrazione a novembre 2020 in allegato un documento redatto da una quindicina di tecnici tra cui l'architetto Dondè con chiarimenti sull'applicazione dei nuovi strumenti messi a disposizione del codice della strada da allora dopo che a supporto delle proposte abbiamo anche consegnato più di mille firme di cittadini che chiedono la realizzazione di un collegamento ciclabile con Casalbagliano inspiegabilmente per noi le interlocuzioni con l'amministrazione si sono interrotte e le scelte come ho accennato sono state altre grazie a tutti grazie a tutti